Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo video vi presentiamo un microscopio stereoscopico. È un microscopio a sbalzo. È uno strumento ottico perfetto per osservare minerali fossili. È utilizzato dai restauratori, è usato in elettronica e per il controllo di qualità. Trovi impiego anche nelle scienze naturali per osservare fiori, insetti. Questo microscopio ingrandisce 20 volte. L'ingrandimento totale è dato dalla moltiplicazione dell'ingrandimento dell'oculare, 10x, per l'ingrandimento dell'obiettivo, 2x. Quindi ingrandimento totale 20x. È chiamato microscopio stereoscopico a sbalzo. Una molla flessibile permette di avvicinare lo strumento all'oggetto da osservare. Quindi la messa a fuoco avviene tramite questa possibilità di avvicinarsi e di allontanarsi. La presenza di un vetro posto sopra gli obiettivi permette di osservare anche in presenza di polvere e utilizzare questo strumento per lavorazioni di pulizia. Prima di salutarvi vi ricordo che presso il nostro sito elettronicadidattica.com potete trovare tanti strumenti ottici, microscopi e strumenti di lavoro. Vi saluto e vi aspetto per il prossimo nostro video e se volete iscrivetevi al nostro canale. Grazie, a presto! Ciao! 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 Grazie a tutti.